Oggi è il 2 agosto 2020 e al Franciacorta Karting Trek ci sono 35 gradi. Oggi finalmente si torna in pista, dopo un infortunio in bici che mi ha costretto a perdere una settimana di allenamento. Tuttavia non è una giornata come le altre, perché oggi c'è un ospite speciale, ossia la mia sorellina Chiara, che oggi per la prima volta proverà il suo Intrepid 60 in pista durante la pausa pranzo. Adesso devi solo che concentrarti su quello che devi fare, acceleratore, freno, quando c'è da frenare spingi forte fortissimo e quello lo molli, brava. Devi solo guardare dove vai e divertiti, va bene? Sei pronta? Senta paura, capito? Tranquilla, tranquillissima, devi sapere bene quello che stai facendo, pronta? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiara Ehi, tutto bene? Sì, non hai frenato? No. Eh, Cicci, devi frenare, Osti. Capito? Quando stai andando troppo forte, freni tutto. Sei tutta matta tu, stai lì. Lì c'è un braccio, e qui c'è Ciccetta, che non ha frenato, accidenti. Ciccetta, hai attraversato il bosco. Cosa hai fatto? Non riuscivi più a girare? No. Ne devi abbassare un po' la velocità, mi sa, quando fai le curve così più strette, capito? Sei carica che ne facciamo ancora un po' di capire cosa è successo. Eh? Braccetti. Braccetti. Uno è sotto il kart e l'altro è di là. Pronti? Entrambe. Quindi facciamo ancora un po' di circa. Allora non riusciamo. Chiara? Dobbiamo aggiustarlo. Sì, però quando stai prima di andare a sbattere, cosa bisogna fare? Bisogna mollare l'acceleratore e frenare. Hai capito? Quindi, nonostante l'avessimo limitato l'acceleratore, nonostante l'avessimo legata con la corda per farle prendere confidenza, nonostante i 4-5 giri precedenti, Chiara è andata a prati. E questo è il risultato. Braccetti piegati e rotti. Ma come sempre, l'importante è che non sia successo niente e che Chiara abbia imparato dai propri errori. Perciò non ci arrendiamo e dopo un rapido intervento meccanico siamo pronti a riportarle in pista. Perciò! Ora ci vediamo nella videocamera. Stiamo portando Cici in pista per la seconda volta con le ruote da cross. Abbiamo le ruote da cross oggi, eh. Ah, sono... abbiamo gommato il prato, ah! Ti senti pronta? Stai andando in retro, eh. Ti mettiamo sugli specchietti la prossima volta. Controlli come fanno i camionisti. Te, ti concentri un po' sulla velocità prima delle curve, eh. Non entrare troppo veloce nelle curve, capito? Cominze come fanno i camionisti. E' la velocità prima delle curve, eh. Se, ti senti più a lesare troppo oloce, che posi liberati. E' la velocità prima delle curve, però diciamo gli aspetti. E' la velocità prima delle curve, eh. E' la velocità prima delle curve, eh. Ci sono un'unico, che va a dare un'unico. Di nuovo, perciò che non ha fatto un'unico. E' il proprio, eh. Lo stesso'unico, è un'unico, che va a far morelloare, e anche un'unico che va a fare un'unico. Questa è un'unico, che va a fare un'unico, che va a fare un'unico. E così si conclude la prima giornata in kart di Chiara, per la quale ringrazio di nuovo la pista di Franciacorta per averle concesso questa grandissima opportunità. Sì, ma il KZ? Sì, ma il KZ? Sì, ma il KZ? Sì, ma il KZ? Sì, ma il KZ?